Il sindaco di Montesilvano, Cordoma, rispedisce al mittente le polemiche che hanno accompagnato la conclusione della seconda edizione della Settimana della Cultura, la manifestazione che ha animato la parte alta della città con eventi di teatro, musica, arte e letteratura. Rivendica anzi a sé il successo di una Kermes che ha scosso una città finora troppo sonnolenta. Ma chi ha fatto polemiche evidentemente non era riuscito nel mio intento che ho concretizzato perché l'assessore della cultura di qualche tempo fa, nonostante i miei stimoli e i miei sforzi ripetuti nel cercare di fargli produrre manifestazioni di questo tipo, non ce la fece. Ce l'ho fatta, è stata con grande forza di volontà, con molte difficoltà e mi sono accorto che alla fine è il prodotto che la città cercava e desiderava e voleva da tanto tempo. La partecipazione increscendo dal lunedì fino a sabato, che si è conclusa in maniera magnifica con delle performance teatrali veramente di alto livello, hanno dato la dimostrazione che la gente ha apprezzato e soprattutto vuole che il prossimo anno questa cosa non solo si rifaccia, si ripeta, ma si ripeta ancora più a lungo e meglio. L'altro obiettivo strategico colto dalla rassegna, aggiunge Cordoma, è l'aver valorizzato Montesilvano Colle a beneficio dei turisti, degli sfollati aquilani e degli stessi residenti. Non sarà l'ultima ovviamente perché vogliamo che quel borgo diventi veramente la bomboniera della nostra città, che non deve vivere assolutamente soltanto di manifestazioni legate a miss o a teatro dialettale, ma deve aprirsi a una serie di manifestazioni di più alto e più grande respiro.